benvenuti oggi realizziamo uno spada palline un gioco divertente con materiale di riciclo cosa ci occorre? scotch, carta, forbici, un rotolo di cartigenica, un palloncino, carta stagnola, carta decorativa prendiamo il rotolo di cartigenica e il palloncino facciamo un taglio qua inseriamo il palloncino nel rotolo di cartigenica così prendiamo lo scotch carta e chiudiamo il nostro palloncino in modo che non vado da nessuna parte facciamo un nodino qui decoriamo il nostro rotolo con carta colorata prendiamo la carta stagnola ci facciamo una bella pallina la inseriamo nel nostro spara palline finito! il nostro spara palline è finito buon divertimento, ci vediamo al prossimo laboratorio ciao! 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 ciao!